Si deve lavorare insieme perché il concetto di meritocrazia è un concetto che deve stare alla base di ogni scelta politica. Oggi ci attendono sfide importanti, lo stiamo vedendo adesso nella legge di bilancio, ma nelle infrastrutture, nell'innovazione, stiamo parlando di intelligenza artificiale, stiamo parlando di misure per i cittadini. Il concetto della meritocrazia deve essere alla base nel progredire in questi passi importanti che la politica deve fare a beneficio di tutti i cittadini, quindi la politica deve seguire il passo della meritocrazia.